Dottor Antonelli, insomma, il Premier ha delineato un programma molto ambizioso, per cui c'è bisogno di uno Stato con un grande ruolo e con una grande capacità di esercitare questo ruolo. Direi proprio di sì. L'elenco, come ha detto, è veramente molto ambizioso. Abbiamo sentito parlare di digitale, di formazione. Abbiamo sentito di una lista di interventi veramente molto ampia, che non si può realizzare senza che lo Stato abbia un ruolo attivo, indichi quelle che sono le direttive, insomma, abbia una partecipazione attiva nelle linee strategiche almeno. Quindi questo penso che sia un tema importantissimo che si sta delineando e di cui si sta parlando. Il nuovo rapporto tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese. Credo che questo sia un po' il tema del giorno, capire quali devono essere i limiti in cui lo Stato interviene. Ovviamente non possiamo pensare a uno Stato che abbia partecipazioni maggioritarie nelle imprese, ma sicuramente deve dare una linea strategica, agli indirizzi strategici. Credo che questo sia un argomento interessante per i panel successivi. Certamente. Dica, uno Stato del genere oggi viene citato un po' dappertutto, almeno in Occidente, citando anche un grande nome, Keynes, il nome di un grande economista, insomma. Voi siete del privato, ma oggi come oggi non sareste contrari a un esperimento neochenesiano, no? Io direi che, ripeto, non si possono immaginare interventi importanti sulla sanità, sulla scuola, nel settore delle comunicazioni, senza un indirizzo strategico, senza una partecipazione dello Stato. Ripeto, non può essere una partecipazione maggioritaria, ma sicuramente delle partecipazioni o di equiti o di finanziamento devono esserci. Ci devono essere ovviamente dei controlli, delle garanzie e poi a un certo punto lo Stato deve, come dire, lasciare, per lasciare agli imprenditori, diciamo, il libero sviluppo dell'impresa. Certo, mi sembra che, come direi, vi troviate straordinariamente con questo seminario, sono certa che non si è concordato con Palazzo Ghigi, però mi sembra che c'è una convergenza tra questo seminario e le intenzioni di Palazzo Ghigi, cioè di procedere a un grande momento di consultazioni e di ascolto, insomma. Ecco, nel momento in cui voi foste convocati in questo processo di ascolto, quali consigli dareste? Da dove ripartire? In fondo voi fate questo, consulting, per proprio rimettere le chiavi nella macchina del Paese che è stata ferma per vari messi. Guardi, noi quello che abbiamo cercato di fare è ascoltare gli imprenditori, capire quali sono le principali linee strategiche su cui agire, ma io credo che qui, diciamo, non si riesca ad avere un intervento efficace sul prodotto interno lordo se noi non agiamo sulle infrastrutture, investimenti in infrastrutture. Ma questo perché lo scenario della domanda, abbiamo visto, è così incerto ed è così difficile prevedere come, quando i consumatori torneranno a spendere. Per cui il sostegno al reddito ci vuole, ovviamente, ma se vogliamo rilanciare il prodotto interno lordo dobbiamo sicuramente investire in infrastrutture, anche perché le infrastrutture hanno un vantaggio, quello di avere un effetto immediato sull'occupazione, danno un vantaggio immediato e addirittura possono avere sul prodotto interno lordo un effetto di moltiplicatore che può arrivare fino a tre volte l'investimento iniziale, quindi generano immediatamente un volano che può dare una grossa spinta. Certo una cosa, oggi parlare di investimenti, ma ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, è difficile con questo livello di burocrazia. Quindi è chiaro che lo snellimento della burocrazia è una delle condizioni fondamentali, senza il quale non si può fare impresa in maniera seria in Italia.